Oggi, 14 aprile, la Chiesa Cattolica festeggia San Benedetto di Avignone. Sur le pont d'Avignon, on y dance, on y dance, sur le pont d'Avignon, on y dance, tout à round. Il celebre ritornello canticchiato dai bambini francesi è legato alla leggendaria storia di un ponte costruito sul fiume Rodanò grazie a un pastorello. Benedetto nasce a d'Avignon in Savoia, Francia, nel 1165 circa. È piccolo di statura e per questo viene chiamato Benezè, piccolo Benedetto. La sua è una famiglia povera che vive di pastorizia. Già da bambino Benezè deve portare al pascolo Negreggi. Il pastorello ha 13 anni quando un giorno, mentre si trova in montagna a contatto con la natura, ha una visione che arriva dal cielo e sente la voce di Dio indicargli una missione. Deve convincere il popolo a costruire un ponte sul fiume Rodanò, ad Avignone, nella Provenza. A quei tempi è molto difficile attraversare il fiume, anche a causa delle numerose piene che ne impediscono la navigazione e la costruzione di un ponte significa offrire un passaggio che porta al mare, aiutare tanta gente a migliorare la propria condizione, rendere la vita più facile ai commercianti e ai pellegrini che viaggiano tra la Spagna e l'Italia. Benezè si reca da Avignone per assolvere il compito assegnatogli dal cielo, ma il suo proposito viene giudicato folle dal re e per dare ascolto alle sue parole esige una prova. Benedetto deve alzare un gigantesco masso di pietra e trasportarlo fino al fiume. Nessun essere umano è in grado di compiere una simile impresa e a maggior ragione un ragazzino così gracile e basso di statura come Benedetto. Il giovane però non ci pensa due volte. Aiutato da una forza divina afferra il masso, lo mette in spalla e di fronte allo stupore dei presenti prima lo alza fin sopra la testa e poi sorretto da due angeli inviati dal Signore lo butta nel fiume. Quella è la prima pietra utilizzata per costruire l'importante ponte iniziato nel 1177. Venezè muore nel 1184 quando la costruzione del ponte non è ancora completata ma le sue gesta diventano leggendarie e il ponte d'Avignone, ultimato nel 1185, rimane legato al suo nome per sempre. Il ponte è oggi un maestoso e suggestivo rudere di quattro arcate, visitato da migliaia di turisti e pellegrini, dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Abbiamo trasmesso Ecco chi è San Benedetto di Avignone, breve a geografia tratta dal libro di Mariella Lentini, Santi, compagni guida per tutti i giorni.